Ciao, ci troviamo sul ponte che collega Sant'Antioco alla Sardegna. Certo, perché non tutti sanno che Sant'Antioco è un'isola. E che isola! Il paese è davvero carino, soprattutto il centro, che comprende via Roma, Corso Vittorio Emanuele, via Regina Margherita. E il centro storico, con la famosa Pracegresia, dove si trova, tra l'altro, anche l'antica e bellissima Basilica di Sant'Antioco Martire. Sant'Antioco è la più antica città del mondo. Pensa che mille anni fa aveva già mille anni. Ma cosa stai dicendo? Ma guarda che questa è storia! Ma anche questa è storia! Ci troviamo all'ingresso delle catacombe. Esse presentano tutte le tipologie sepolcrali tipiche dei cimiteri cristiani. Ma sono delle tombe, vere e proprie! Hai paura? No! Boh! Ma Sant'Antioco è conosciuta anche per lo sport. Basket, grazie alla Sulcispes, per il calcio che per tanti anni viene ospitato in questo mitico stadio. Ma soprattutto per il volley. Pensate che l'Olimpia Volley di Sant'Antioco è stata la prima squadra sarna a raggiungere la Serie A1. Ma ci pensi? Complimenti per la memoria! Ma il pezzo forte, naturalmente, sono le coste e le spiagge. Ma il pezzo forte, naturalmente, sono le coste. Ricordiamo che dentro questa fantastica isola troviamo anche il paese di Calasetta con le sue splendide località. Questa in sintesi è Sant'Antioco. Ma se vuoi scoprire e soprattutto vedere di più, vai sul sito www.showwebsardegna.com e alla voce cerca digita Sant'Antioco. Lì troverai un sacco di video che riguardano questa bellissima località. Ciao, a presto! Ciao! Ciao!